ori ecco macchi siamo ai 5009 grazie a tutti quanti assolutamente un bellissimo traguardo per quanto mi riguarda allora comunque mi sono appena attaccato al pc quindi ho sempre i miei 5-10 minuti di momento per riprendermi in cui sto ancora cercando di comprendere chi sono, come mi chiamo qual è il mio nome e perchè sto proprio giocando a dead by daylight e perchè questo si è fatto hittare così a gratis ora ok ed è un free hit ciao davis buonasera come stai comunque sono mico ciao mico quindi niente billy ne blight quindi niente billy ne blight hai ragione ma quella che cazzo è che si è messa in mezzo ma parco 2 quella giocata che ha fatto non me l'aspettavo sentite che avevano preso i corvi ma pensavo fossero gli altri metto gli altri verso il pallet ora holding w davvero mancata ho messo forse un corvetto di troppo dovrei comunque arrivarci qua sei dado ciao dado come mai avete cambiato il nome ho messo il nome cop su psn io so ho trovato crimen brace prima sapete che non era più palida idea dovrei andare a usare pop punk mettiamo andando un corvo verso il gancio sicuramente questo genere in lavorazione infatti lo vogliamo usare sicuramente pop qua fuck devo tornare indietro appena la hit non so se ci arrivo se la vuoi fare per il tutorial clip una strega normale divora don di stanza parco intervento impasto immortale divora ok sembra che riesco a farla maledetto che ci riesco non mi piaceva più era troppo infantile ma no perché mi sa di no perché ha chiamato il nome mico tu ce l'avevi un suono ah se ce l'aveva prima intendi perché sennò devi mettere se qualche vip del canale mi facesse punto esclamativo sound mi farebbe un grosso favore magari potrei togliere l'osso di vip potrei mettere in generale come comando l'ho vista la la tizia ma non credo che mi osserva oh no punto esclamativo sound super allora abbraccio abbiamo bloccato ancora quel gen tra l'altro sento fischi per fiaschi ah vabbè succede aspettiamo per abbraccio qua un attimo così possiamo poppare abbiamo fatto save ha dovuto aspettare un secondo di più per la rapture anche questo gen è quasi completo però mancato ha holdato w l'unico motivo per questa cosa qua in pratica è se ha ds non hai ds che cazzo fai oh mi è stato clamorosamente il ds penso che comunque potrebbe essere questo si è preso un hit totalmente a gratis che non raga non sto comprendendo che stanno facendo questi sarò onesto con voi e sincero non so che minchia stanno a combinar questi nessuno è gen ok andiamo da lei anche se hanno fatto il save va bene da lei prendiamo perché volendo potrebbe arrivare al pallet questo genere ormai è regalizzato del tutto quindi oh macchina è cambiata tutta la voce no è sempre lo stesso anzi no è sempre lo stesso non lo senti mi finisco proprio qua è venuta la barba e la voce profonda la voce è sempre la stessa ragazzuoli io non so cosa vi siete fumati forse io ho fumato un po' troppo a questo punto per avere così un cambio di voce radicale ah ok ora va bene perfetto eh ho solo un po' di mal di gola sto scadendo ancora la gola allora finisce il dead man's witch quindi ci permette di calciare il gem prima o poi ma chi ti ha un ciabatto sulla nuca di snake ma può essere ma quello ha fatto for the people ha fatto for the people si è messo lì peccato se si lasciava italia così sarebbe stato ridicolo ma se è andato se è andato fuck come lo so reso conto non riuscirò ad arrivare a lui devo andare a difendere il gem hai detto lezioni di scracchio del clown di scracchio eh cosa dovrebbe significarmi di scracchio non conviene romperli quei pallets probabilmente si però non ho voglia devo essere onesto con voi non ho assolutamente voglia di romperle non abbiamo ancora deciso in realtà che gioco esattamente giocare era o al divers o a little company però non so qual è che giochiamo io personalmente mi sa che vorrei preferirei giocare al divers stasera però se preferite little company giochiamo a little company no problema ma che questo non ha resi fai una roba su dius guarda appena può certo hai nessun problema little ci metterà qualche mod per farlo più caotico è già caotico abbastanza così Jerry cioè onestamente guardaci nelle palle degli occhi Jerry se non siamo già abbastanza caotici non ho capito perché si è lasciato andare non è mai abbastanza io vorrei giocare il divers 2 come vuoi beh magari qualcuno adesso tipo poi ci vuole giocare dipende da lui però o i gota o Jerry eccolo se si sveglia più di Jerry hai visto cosa avevo detto amore cosa ti avevo detto amore dimmi che non te l'avevo detto c'hai balance signorina vedo come un si non è un no è la prima volta che tappendo tra l'altro è ottimo perché così vediamo anche l'ora dell'ossessione dato che abbiamo Grimm Embrace sempre se riusciamo a trovare un gancho ma direi che è stato un easy game questo not bad chill ma dai era già il save ma che cazzo what che è arrivato e ha detto piedini di Jerry sai come mai l'artista è così forte tra i piedini ma non è vero perché ha tre ma che dici ne ha due oh mio dio ma striscia raga l'artista non cammina striscia guarda piedino dell'artista guarda è in ti pose non hanno messo un'animazione che cammina raga ma che schifo sta il tenete strisciando ma che stronzata beh che dire il tempo peraltro che ci sta abbondantemente dire di sì a